Il Mediterraneo centrale è caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica per la presenza di un vasto promontore anticiclonico. In Toscana domenica primo luglio sereno poco nuvoloso con locale e densamenti nelle prime ore del mattino sul Valdarno Inferiore, modesto sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore più calde sull'Appennino. Venti, deboli variabili o assenti nell'interno, deboli meridionali lungo la costa fino a temporaneamente moderati in arcipelago, mari calmi o poco mossi, temperature stazionarie e un ulteriore lieve aumento fino a circa 33-34 gradi, valori sopra le medie del periodo. Anche sul territorio provinciale c'è lo sereno poco nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 18, massima 34 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 13, massima 32, a Via Regge sul litorale minima 20, massima 27 gradi, lunedì situazione stazionaria.